buongiorno a tutti oggi volevo parlare del vaso di espansione che cos'è e a cosa serve il vaso di espansione lo dice la parola stessa è un serbatoio che serve per compensare l'idratazione quindi l'espansione dei fluidi viene utilizzato sugli impianti termodinamici di termoregolazione della temperatura riscaldamento raffreddamento impianti idraulici dovunque ci sia un liquido in circolazione a cosa serve dicevo serve a compensare le dilatazioni del fluido perché tutti i fluidi come sappiamo se sottoposti a variazioni di temperatura hanno delle variazioni di volume ma parliamo degli impianti atmosferici ovvero degli impianti a vaso aperto dove va posizionato il vaso di espansione il vaso di espansione l'ha posizionato sempre nel punto più alto perché gli impianti atmosferici sono degli impianti aperti quindi aperti all'atmosfera uno dei punti di questo impianto è esposto all'atmosfera questo punto deve essere sempre nel punto più alto perché perché applicando la legge della fisica relativa ai vasi comunicanti i fluidi nelle tubazioni tendono a portarsi tutti allo stesso livello di conseguenza se noi avremo il vaso di espansione più basso delle tubazioni avremo una traccimazione del fluido dal troppo pieno perché perché i fluidi che sono nelle tubazioni che sono nei punti più alti scendono per portarsi allo stesso livello del punto che sfoga verso l'atmosfera di conseguenza il nostro vaso di espansione inevitabilmente va posizionato in alto nel punto più alto e le tubazioni mettiamo con gli sfiami interessante buona giornata grazie